bentornati su my football jersey oggi vi mostro una maglia bellissima una maglia retro anche se non di tantissimi anni fa questa ovviamente la prima maglia del milan per la stagione 2013-2014 la maglia di Prince Boateng la maglia è verana è molto bella il costo lo vedete qui sopra che altre parole posso spendere decidete voi cosa fare ma un affare incredibile se volete ordinare la maglia trovate i riferimenti qua sotto in descrizione e anche se volete andare a vedere altre proposte che il sito prepara per voi per i nuovi iscritti trovate anche sempre in descrizione un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo diventa ancora più basso ora vi lascio la parte finale prima però iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto alla prossima ciao